Bentornati ragazzi, benvenuti sul mio canale SonoDX avete già visto qua dietro lo studio, ma lo potete capire anche dal titolo questo è uno dei video della playlist che tratta i giocatori in odore di trasferimento o che si sono appena trasferiti e quindi in questo caso parliamo di Matteo Darmian giocatore che proprio oggi sta facendo le visitamentiche con l'Inter e il titolo spiega già di cosa tratterà questo video cioè perché Matteo Darmian? è una domanda che si stanno facendo tantissimi tifosi è il giocatore giusto, è il giocatore che serviva all'Inter è il giocatore che serviva a Conte cosa c'è dietro? Qualcosa vi devo dire di quello che c'è dietro perché l'Inter l'ha comprato, non solo per motivi economici e tecnici quindi scrivetemi come sempre qua sotto cosa ne pensate di Matteo Darmian all'Inter però prima guardate il video, buona visione se ne è parlato anche a gennaio scorso di Matteo Darmian vicino all'Inter adesso si è concretizzato e quindi l'Inter pagherà 2,5 milioni di euro al Parma e darà un ingaggio di 2 milioni di euro netti al calciatore per assicurarsi le prestazioni del terzino italiano che ha giocato in nazionale anche con Antonio Conte e precedentemente all'esperienza Parma ha giocato per diversi anni al Manchester United quindi un'esperienza importante in Premier League dove è stato protagonista soprattutto nei primi due anni e poi si è un po' perso per strada intanto prima di capire perché l'Inter compra Matteo Darmian parliamo del giocatore tecnicamente è il classico terzino un po' tutto fare un po' quello che amano gli allenatori perché è il classico che puoi mettere a destra che puoi mettere a sinistra che addirittura ha giocato da difensore centrale che può fare il terzino che può fare il centrocampista in fascia è il giocatore che sa fare un po' tutto io più volte ho detto che sembra un doppione di Danilo D'Ambrosio perché è un giocatore che magari tecnicamente non è eccellente ma che si fa apprezzare per il lavoro per la posizione tattica e per tutte quelle caratteristiche che magari non piacciono a noi tifosi ma piacciono tanto agli allenatori il Manchester United lo comprò un pochino a sorpresa pagandolo circa 20 milioni di euro e tutti in Italia rimasero stupiti di quell'acquisto giocò titolare anche all'inizio poi come ho detto prima si perse un po' negli anni in un momento in cui però si persero tanti giocatori a Manchester perché il Manchester ha vissuto gli ultimi due o tre anni un declino e una mancanza di risultati quasi drammatica che ha bruciato tantissimi giocatori anche lo stesso Pogba non ha mai reso come ci si aspettava a Manchester pertanto sicuramente per Darmian è stato difficile emergere in un contesto che già si trovava in una profonda crisi per questo motivo il Parma l'anno scorso l'ha acquistato dal Manchester United e qui arriviamo all'Inter perché gira questa voce girata dall'inizio che il Parma acquistò Matteo Darmian dal Manchester United in collaborazione possiamo chiamarla così con l'Inter questo cosa vuol dire? vuol dire che il Parma si espone a fare un'operazione economica con dietro una grande squadra come l'Inter che gli dice non ti preoccupare prendilo poi te lo ricompriamo noi questo avrebbe comunque garantito al Parma di poter poi fare eventualmente dei soldi sulla cessione di Matteo Darmian un po' quello che è successo avevo già spiegato la trattativa tra l'Inter e il Genoa per Pinamonti cioè l'Inter cede al Genoa Pinamonti con la promessa che l'avrebbe ricomprato l'anno dopo a una cifra maggiore sono spostamenti finanziari è inutile andare a fare poi il calcolo al centesimo chi ce l'ha odagnato perché e per come quello che è certo è che sicuramente la crisi che ha causato il lockdown ha messo in seria difficoltà tutte quelle squadre che avevano dato la cosiddetta stretta di mano che si erano dati la parola che poi si sono ritrovate con la coperta corta pochissimi soldi per via del calo di fatturato e dover poi mantenere delle promesse non scritte sui contratti per non rovinare i rapporti con le squadre c'è chi lo ha fatto quindi ha mantenuto la promessa esattamente come ci si era detti allo scorso anno un esempio lampante è stato Sensi acquistato dall'Inter a fine agosto pagando 20 milioni di euro a Sassuolo acquistato nonostante Sensi l'anno scorso abbia fatto una stagione praticamente tutta da infortunato e quindi c'erano molti dubbi sul riscatto di Sensi all'Inter eppure l'Inter ha voluto mantenere la parola senza neanche andare lì a chiedere sconti o mica sconti è andato lì e gli ha dato i soldi e ha riscattato Sensi con Pinamonti si è fatto un discorso diverso l'Inter è andato dal Genoa e ha detto non ti posso dare 20 milioni te ne do 8 più 12 di bonus e quindi per la fine il Genoa riuscirà a coprire la spesa dell'anno scorso che era stata fatta per Pinamonti però così sono mantenuti comunque rapporti l'Inter ha prelevato il ragazzo pagando 2 milioni di euro a Parma considerate che il Parma l'aveva pagato 2,5 milioni dal Manchester United quindi il Parma comunque farà una plus valenza e l'Inter si carica un altro giocatore in rosa andiamo però a parlare dell'aspetto tecnico di Matteo D'Armian dove giocherà nell'Inter di Conte perché Conte ha voluto Matteo D'Armian sempre che sia stato Conte a volere Matteo D'Armian le cose a dire sono un pochino partiamo col dire che non è Dalbert che fa spazio a D'Armian Dalbert era in uscita ed era considerato un esubero quindi non è un giocatore che doveva essere sostituito e anche dal punto di vista di spazio salariale Dalbert aveva un costo rosa annuale di 6,2 milioni il Ren pagherà 1,5 milioni per il prestito l'Inter a bilancio quest'anno sotto la voce di Dalbert scriverà 2,5 milioni restanti che sono soltanto l'altra parte di ammortamento che non viene coperta dagli 1,5 milioni di prestito ovviamente l'ingaggio verrà pagato dal Ren quindi l'Inter risparmia circa 3,7 milioni di euro a spanne con la cessione di Dalbert mentre l'ingaggio di D'Armian peserà a bilancio Inter totale circa 4,5 milioni quindi qualcosina in più da dove arriva questo calcolo molto semplicemente è stato fatto un triennale da 2 milioni di euro che sono circa 3,7 lordi mentre il costo del cartellino che è 2,5 milioni sarà spalmato in ammortamento per tre anni quindi sono circa 800 mila euro all'anno poi le cifre esatte le scopriremo se ci sono commissioni qualcos'altro però si parla circa di 4,5 milioni D'Armian non prende il posto di Dalbert perché Dalbert era un resubero D'Armian verrà a fare un ruolo che probabilmente sarà quello di o terzo centrale o quello di esterno o a sinistra o a destra nell'ultima parte della sua carriera ha giocato prevalentemente a destra però D'Armian ha giocato anche a sinistra e quindi eventualmente si può adattare a tutte e due le fasce la prima domanda che mi faccio è perché l'Inter sta comprando tutti questi terzini per farli giocare centrali se poi la prima partita quando ha giocato Kolorov ed Ambrosio subito si è visto che la difesa così forse avrebbe subito e rischiato troppo questa è una domanda che mi sono fatto subito anch'io cioè mi aspettavo che l'Inter andasse più su un centrale poi magari adatto a giocare anche sull'esterno piuttosto che un esterno adatto a giocare centrale perché di esterni adatti a giocare centrale al momento c'è già D'Ambrosio e c'è già Kolorov mentre di centrali adatti a giocare sull'esterno in realtà l'Inter non ne ha nessuno anche lo stesso Bastoni che lo sta facendo bene però non è proprio il suo da centrale nella difesa 4 sicuramente sarebbe più adatto visto che è un giocatore alto e longilineo che quindi fa fatica magari più sulla corsa sono abbastanza dubbioso anche se sono insicuro che Darmian giocherà diverse partite quest'anno proprio perché è un jolly e quindi in emergenza è il classico giocatore che ti tappa il buco senza crearti particolari problemi e nella sformazione dell'Inter come ho detto prima può ricoprire 4 ruoli e quindi non è male da questo punto di vista oltretutto l'Inter sa che non farà mai una minusvalenza con Darmian il giocatore comunque ha 30 anni non è a 35-36 quindi anche se dovesse venderlo fra 2 anni 3 anni a 1 milione di euro comunque riuscirebbe a risparmiare e a non creare bucchi di bilancio è un'operazione intelligente? sì è un'operazione intelligente è un'operazione che serviva non lo so se veramente serviva perché io credo che la Rosa e l'Inter quest'anno sia molto ampia forse avrei preferito più sfoltirla se poi la motivazione è stata quella non roviniamo i rapporti col Parma ci avremmo fatto una promessa e la manteniamo ok probabilmente siccome la spesa è molto bassa conveniva non rovinare i rapporti e comunque mettersi un giocatore in squadra che nel corso dell'anno può servire credo che comunque l'Inter abbia la possibilità di cedere gran parte dei giocatori magari a gennaio quelli che magari sono rimasti convinti di poter giocare quando capiranno che magari non ci sarà spazio in Rosa e non avranno quindi la possibilità di mettersi in mostra probabilmente sceglieranno nella seconda metà della stagione di andare altrove per farsi vedere e giocare detto questo il mio voto all'operazione Darmian è 6 non è un'insufficienza non è un'operazione che mi fa impazzire rimane lì e sicuramente quello che vi posso dire è che il fatto di essere così insoddisfatti di aver letto così tanta gente insoddisfatta per l'operazione Darmian mi fa capire che le ambizioni dei tifosi dell'Inter sono aumentate e sono alzate e questo mi fa ben sperare per il futuro detto questo ragazzi scrivetemi qua sotto il vostro voto cosa ne pensate dell'operazione Darmian Inter ci vediamo al prossimo video se non siete iscritti al mio canale e vi piace il calcio e vi piace l'Inter iscrivetevi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi